Si è cambiato come gioco, come preparazione, non come modo, visto che ha giocato con 4-3-3 a Borsano e gioca qui con 4-3, cosa è cambiato? Io rispetto all'anno scorso cerchiamo sempre di giocare la palla, secondo me si è visto anche oggi, non abbiamo praticamente mai buttato via la palla, tranne c'è un periodo in secondo tempo dove siamo andati con difficoltà a vincere di uscire con la parallela su Bocallone e Marconi, però secondo me rispetto all'anno scorso è proprio quello che cerchiamo proprio di giocare da dietro la palla e secondo me non si scende da assolutamente. Fischi, io a Badonelli che abbiamo visto correre con un manto e talpondolare un caraccione tremendo per fermarti, oggi ti ho visto un po' fermo, come mai? No, fermo, non mi riesco, il secondo tempo, 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 il secondo tempo è un po' tanto si è visto, poi il caldo e il campo un po' mollo, diciamo non mi hanno aiutato, però fisicamente sto bene, a volte non lo sento più, per quello tutto a posto. Gol all'esordio sotto la Nord, cosa scende? È un esordio più bello, non c'è per quello, sono veramente soddisfatto. Posto?